La Francia accoglie i reali d'Inghilterra, al via la visita che vedrà Carlo III, la regina consorte Camilla, per tre giorni in terra francese. L'aereo della corona britannica, un Airbus A321 decorato con i colori dell'Union Jack, è atterrato intorno alle 14 all'aeroporto di Orly, nel sud di Parigi. Il re d'Inghilterra è stato accolto agli Champs-Élysées dal presidente francese Emmanuel Macron, poi i due capi di Stato sono rimasti in raccoglimento davanti alla tomba con la fiamma del milita ignoto sotto l'arco di trionfo. Un omaggio di entrambi ai milioni di morti della Prima Guerra Mondiale. Poi Carlo III e la regina consorte Camilla hanno percorso gli Champs-Élysées a bordo di una Citroën decappottabile, eseguiti da 136 cavalli della Guardia Repubblicana, mentre la folla salutava e applaudiva il loro passaggio. La Citroën presidenziale, scortata, ha raggiunto Palazzo d'Eliseo, dove il presidente francese e il re d'Inghilterra hanno avuto un colloquio bilaterale. In serata è prevista l'attesa cena di gala nel Salone degli Specchi della Reggia di Versailles.